Scarin scambia con Tchuzkov Scarin La rovesciata in rete! Il gol di Tchankov è una perla Il spari della rossia 5-5 Per la FIFA è doppietta Ma c'è il suo zampino anche sul primo gol In ogni caso questo è da cartolina Di Aie è rimasto completamente frizzato 5 pari a 5-0-8 Arriva Niang Tiraccio sopra la traversa Makarov Tchuzkov Scarin Vuole riprovarci Tchankov Sarebbe stata ancora più bella Ma è la traversa di Rimino Novikov Rovesciata Scarin La magia del capitano Porta avanti la Russia Ancora Tchankov Ci pensa il numero 11 A salvare la Russia Qui in direzione di Niang Spero proprio per lui Che non Tolgano anche questo gol Ancora Tchankov Tchankov Dì